Buongiorno dall'Ippodono del Mediterraneo, ci apprestiamo a vivere il penultimo convegno di questo 2021 che ha visto proprio la settimana scorsa il clou dell'annata con il città di Siracusa, ci apprestiamo a vivere sei corse di buon livello, il premio centrale, il premio russo è una condizionata per cavalli di tre anni sul doppio chilometro ma di spalla altre due interessanti gare, una per anziani e una per quattro anni. Iniziamo con ordine, parliamo della prima corsa, il premio Novgorod che è una categoria G sul doppio chilometro, qui il pronostico non può non partire da Tundrast, è una cavalla che in questi contesti ha sempre fatto bene, la categoria G è davvero un ottimo trampolino di maccio per andare a conquistare questo successo che ormai manca da diverso tempo. Nell'ambito degli avversari diciamo che la novità Vigone Griff, la regolare una Bondi VM, il dotato ma falloso Ungaretti Orso potrebbero essere le migliori contropartite. Si prosegue con la seconda corsa, il premio San Pietroburgo, qui vede a confronto anziani di categoria F e di categoria E. Nonostante il numero a largo di tutti, Vacanza Jet sembra avere una ottima chance di successo. Deve cancellare l'ultima opaca prestazione in una delle prove del campionato di Tenerogente a Palermo. Se quella è una prestazione bugiarda, è stata casuale, Vacanza Jet qui ha una grossa chance di portarsi a casa il successo nonostante il numero, anche perché al suo interno ci sono tutti i cavalli partitori ma che preferiscono correre di rimessa. Chi considerare? Sicuramente Ariel che scende di categoria, una Tina Risaia TRGF che non sta correndo bene ma che è veloce e potrebbe avvantaggiarsi dalla scia di Vacanza Jet. In seconda fila Zolderopi, un altro che può far bene, per una piazza piace anche Atenagas, quindi tolta Vacanza Jet che sembra un gradino superiore, gli altri se la giocano un po' tutti per le piazze. Il premio Mosca sarà la terza corsa, cavalli di tre anni sui 1600 metri. Sono rimasti in 11 al via dopo i ritiri proprio mattutini del numero 5 di China BKS del numero 11 Calio Petrio. Anche qui la corsa è molto molto aperta, nonostante la seconda fila piace Casseton Wise S che si sta ben disimpegnando, finora cinque uscite in terra siciliana con un successo e quattro piazzamenti. In prima fila diciamo che spicca il nome di Club Wise S e da non sottovoltare la novità Champagne Fior. È la stessa Carina Petu che è molto progredita nell'ultimo periodo, due successi nelle ultime tre uscite. In seconda fila a parte Casseton Wise S vanno sottolineate le chance della dotata una fallosa servesa e della novità Capunca, cavalla che ha fatto già di schete velocità in quelle di Taranto e Castelluccio De Sauri. Ma a proposito di questa corsa e di Carlotta di Gaia che sarà al via con Giuseppe Zanca, sentiamo il suo pronostico. E allora, sì, alla terza Carlotta di Gaia il numero non è dei migliori, una cavalla molto veloce, vediamo, proverò a togliere i ferri e vediamo se magari viene uno schema a suo favore e cercare di rubare una piazza. Gli avversari in questa corsa sono, secondo me, il 4 di Champagne Fiore, una cavalla svelta a partire, una novità per la pista, potrebbe anche debuttare con un successo. Non escluderei il 2 di Carina Petu, il 6 di Club Wise S e il 10 di Castleton Wise S. E siamo al crew, il premio Russia, questa condizionata sul doppio chilometro che ha in Cagliostro il cavallo da battere, l'allievo di Davide Stefano, l'ultima riva terzo dietro Candido Getta e Clara Risaia, ma in precedenza aveva battuto un po' tutti i migliori della generazione qui in Sicilia. Cavallo che parte piano ma è dotato di forte progressione, secondo me sul tracciato siracusano può subito mettersi in evidenza, nonostante il numero è il favorito. Alla ricerca delle migliori alternative, diciamo che il team Loverde ne schiera tre e la migliore sembra essere Comida. Da non sottotoltare è Canadian Wiesel che è passato in allenamento al team Porzio e che può far bene da questa posizione. In seconda fila nominerei solamente Clio che è l'ultima dato segno di leggero progresso dopo periodo un po' così. In questa corsa Giuseppe Zanca presenta Cannibal F.I. Sentiamo cosa ci dice del portacolori del signor Cucinotta. Qui Guido Cannibal F.I. Cavallo molto potente ma ancora non ha espresso le sue vere potenzialità. Però è dotato degli ultimi 400 metri molto molto forti. Se c'è uno schema a suo favore potrebbe anche dire la sua. Gli avversari principali sono il 3 di Comida, l'11 di Cagliostro e come sorpresa direi il 7 di Camombo e Fiore. La quinta corsa il premio Rostov vede in pista i gentleman. Saranno in 7 al via perché si è ritirato Birko Alter numero 1. Qui c'è Batatecola che scende notevolmente di categoria però la forma non supporta in questo momento l'allieva del signor Termini. Quindi favorita ma con riserva perché si troverà tra due fuochi in partenza tra Brunilde e Brent RL che sono due soggetti molto veloci e che di recente hanno fatto bene sottracciato finendo anche una volta prime e secondi. Tra gli altri Blue Sky Pax un cavallo sempre appoggiato da buone voci, caldeggiato dal suo entourage ma finora è andato a corrente alternata. Una sorpresa potrebbe essere Bluegrass Fonte che di recente è andata a segno. Sentiamo cosa ci dice Giuseppe Zancro della sua allieva. Alla quinta presento Bluegrass Fonte, l'ultima vince molto bene a Paermo dopo errore in partenza. Oggi ci sarà qualche avversario in più, più forte diciamo rispetto agli ultimi, soprattutto il 3 di Patatecola che ha sempre affrontato le prime categorie. Lei la cavalla da battere. Poi direi anche il 2 di Brunilde e il 4 di Brent RL che viene dato due successi consecutivi. Come sorpresa il 7 di Blue Sky Pax. Il convegno si conclude con una condizionata per 5-6 anni. Il premio Kazan. Bellissima corsa. Tre soggetti su tutti appaiono quelli in lizza per il successo con una leggera preferenza per Artemisia Gar che ritorna in un contesto più abbordabile. Ardea Wise e Astag Sonic, cavalli che stanno facendo bene nel periodo, soprattutto Astag Sonic che ha vinto la prova del campionato nel Mediterraneo il 9 dicembre, può essere la migliore alternativa. Tra gli altri la veloce Aida Griff se va in posizione c'è una chance e il bisbetico Assisi Pax se in giornata sì è uno di quelli che potrebbe sorprendere. L'ultima corsa è Lison di Gaia. Vince l'ultima bene con l'allievo a Palermo. Ora c'è qualche avversario un po' più tosto. Una galla che parte forte, dovrebbe andare subito in posizione e poi sperare di rubare una piazza. Qui secondo me la cavalla da abbattere è il 5 di Artemisia Gar. Molto potente, è una cavalla che ha affrontato anche le prime categorie. Sinceramente mi sembra un po' declassata. Come avversario l'uno di Ardia Wise è molto regolare, sta andando molto forte. Poi il 3 di Astag Sonic che viene da un recente successo. E poi come sorpresa direi Aida Griff che con il nuovo proprietario ha già fatto una corsa vicendo a Palermo molto bene. Questo è il resoconto di questa giornata di trotto a Siracusa che concluderà l'annata giovedì 30 dicembre. È già uscito il calendario di gennaio-febbraio del 2022. Si inizierà subito alla grande perché domenica 16 gennaio ci sarà il Gran Premio Nostro d'Oro. Una prova per un gruppo 3 per cavalli di 4 anni sulla distanza dei 1600 metri. A tutti voi una buona giornata di corso e appuntamento alla prossima settimana.